Musica La pallina non va a conclusione Va adesso passaggio di Barbieri per Eimi Poi Eimi butta via la pallina A questo punto però nell'incursione di Casarotto si guadagna un Esecuzione perfetta da parte del numero 6 del Tiene Luotti Motivazione Adesso questa volta Barbieri per fermare l'incursione di Luotti Tiro diretto a 9 e 26 da parte del Tiene Casarotto tiro Raso terra di Casarotto Siamo a trovare Rocca ancora Conclusione Paracomino Tiro in ribattuta di Eimi Velo Carotto che tenta di liberarsi di Rocca Va a conclusione Va a conclusione Casarotto Azione individuale del numero 11 del Tiene Quando Nossa mano Il portiere Comin Poli 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 E insacca Poli Il suo gioco Servito da Poli Ballardin scende sulla destra Da lì dietro per Poli Ed insacca Questa volta non sbaglia La lì dietro per fermare l'incursione di Luotti